Siamo a commentare una vittoria per noi molto importante, arrivata da una partita giocata molto bene dai ragazzi, ottime percentuali, tiro a tre punti, Rugolo e Maggini hanno fatto canesti importanti, hanno mosso bene la palla, abbiamo retto al rimbalzo pur nonostante l'assenza di Galmarini e poi c'è stato Lorenzo Passoni che con 22 punti sicuramente ci ha dato la spinta nel secondo quarto per fare il break e poi ha fatto anche dei canesti importanti nel secondo tempo, quindi per noi una vittoria importante, ci dà fiducia, siamo ancora ultimi però lotteremo fino in fondo e stasera l'abbiamo dimostrato.